Dovrà essere più massiccia la presenza delle forze dell'ordine nel territorio cortonese, anche se questo dovrà significare sottrarre forze da comandi provinciali. Questo in sintesi il risultato è la riunione del Comitato per la Sicurezza Pubblica, svoltasi presso la Prefettura Aretina, su richiesta del Sindaco di Cortona Andrea Vignini, dopo la scia di furti avvenuta nel suo territorio. I carabinieri nell'area di Cortona dovranno essere più presenti anche mediante l'invio e l'utilizzo di ulteriori forze provenienti dal Comando Provinciale di Arezzo. Maggiore dovrà essere il controllo da parte della Polizia Stradale sulle più importanti vie di comunicazione della Val di Chiana per impedire ai malviventi le vie di fuga. Polizia Municipale, su espressa richiesta del colonnello Salta la Macchia, comandante provinciale dei carabinieri, sarà esclusa dal pattugliamento del territorio, mentre il loro intervento sarà proprio a ridosso delle aree residenziali. E sempre la Polizia Municipale si farà carico in via esclusiva del rilievo di incidenti stradali e della relativa burocrazia, così da permettere ai carabinieri di Cortona di schierare l'intero organico nell'attività di contrasto alla criminalità. Il Comune dovrà dal canto suo rivolgere un appello a tutti i cittadini per evitare comportamenti a rischio e per segnalare tempestivamente ogni fatto sospetto.